Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei innanzitutto darvi qualche aggiornamento sul piccolo colpo di scena che però si è subito sentito sui mercati riguardante l'inflazione e quindi automaticamente l'aspettativa sui tassi di interesse. In particolare ieri è arrivata la notizia dell'inflazione americana, in particolare l'andamento dell'indice di prezzi al consumo che nel mese di gennaio ha fatto registrare un aumento dello 0,3% su base mensile ma l'inflazione si è assestata a un più 3,1% su base annua che è stato leggermente superiore, così all'attese, che erano gli più 2,9%. Alla fine qualcosa di poco conto ma che già è bastato così a innervosire i mercati soprattutto perché come già da mesi ormai dicevamo già il mercato azionario, il mercato anche di altri beni come avevamo visto si era appunto già posizionato anticipando, dando per scontato come si dice vendendo la pelle dell'orso prima di averlo cacciato un abbassamento dei tassi di interesse appunto dando per scontato che ormai la traiettoria di riduzione dell'inflazione stava continuando e quindi le banche centrali, già si parlava all'inizio 2024, avrebbero abbassato i tassi di interesse e seppure non lo avevano fatto ufficialmente, anzi le dichiarazioni sia del governatore della banca centrale americana sia della governatrice della banca centrale europea erano abbastanza caute, sempre come dico sempre criptiche un colpo al cerchio e una la botte per cui dicono che sì sta funzionando la loro politica monetaria come sempre e la traiettoria di inflazione sta continuando però poi a un certo punto dicevano quindi comunque se continuerà così, se la traiettoria verrà rispettata si dovrebbe cominciare a pensare a eventualmente un'eventuale riduzione dei tassi di interesse futura e non specificavano quando, a volte si intuiva verso l'inizio dell'estate così a livello europeo e negli Stati Uniti addirittura già il mercato appunto con l'indice swap si aspettava marzo e questo appunto è un altro elemento che avevamo visto importante per cui dicevo seppure le banche centrali ancora non avessero ridotto i tassi di interesse già il mercato sui swap generale poi come dicevo il mercato azionario il mercato dei titoli di Stato il mercato obbligazionario eccetera avevano già avuto significativi rialzi e in particolare quelli swap su scadenze future tre mesi, sei mesi, un anno eccetera già indicavano, anticipavano l'aspettativa appunto di una riduzione abbastanza imminente dei tassi di interesse da parte delle banche centrali prima ancora che queste lo facessero infatti se ricorderete su qualche video fa in cui parlavo dei tassi di mutui anche in Italia in particolare evidenziavo come già si registrava una riduzione leggera seppure appunto abbastanza significativa dei tassi di mutui uno potrebbe dire ma se i tassi di interesse non sono stati toccati dalla banca centrale europea appunto questo è il motivo appunto il mercato swap sarebbe il mercato sostanzialmente dei tassi di interesse dei prestiti e quindi già a seconda della scadenza appunto cambiano in base a come il mercato si aspetta che dovrebbero le banche centrali poi muoversi ecco perché sono anche dei segnali importanti come nel resto quello dei titoli di Stato appunto e quindi è bastato ieri come dicevo questo così piccola battuta di arresto su questo sentiero di riduzione dell'inflazione che comunque sta continuando sia negli Stati Uniti che in Europa per ora ma che poi come a volte alcuni giornali titolavano visto così questo ultimo miglio è sempre più difficile per arrivare al loro 2% che è il tasso di inflazione obiettivo delle banche centrali e soprattutto ecco aumenta diciamo il nervosismo su questo soprattutto sulle scadenze è bastato come dicevo ieri questo dato americano che già il mercato swap ha spostato la sua aspettativa di riduzione di tassi da marzo a giugno quindi dovrebbe comunque arrivare non sembra essere cambiato molto anche perché appunto parliamo di percentuali irrisorie tra l'attesa e il dato effettivo ma appunto la riduzione dei tassi di interesse non è imminente come sembra era anche un titolo di un video che avevo fatto qualche mese fa cioè che il mercato dava già per scontato a questa riduzione anche abbastanza imminente cioè in un termine abbastanza breve invece così non è perché comunque le incognite sono molte forse perché poi anche questa inflazione è abbastanza comunque come dico sempre è una dinamica molto complessa l'inflazione che ha anche aspetti psicologici aspetti estremamente complicati legati anche a dinamiche di rapporti contrattuali tra produttori e venditori grande distribuzione attese adesso la forza del sindacato nel mondo occidentale è molto minore forza anche diciamo contrattuale del lavoratore quindi sugli stipendi almeno qui in Italia almeno mi sembra di vedere questo si muovono poco comunque sono più basati su un sistema ingessato ecco negli Stati Uniti già la carenza di alcune soprattutto figure professionali invece ha fatto aumentare in maniera abbastanza significativi anche i salari medi quindi lì c'è anche questa componente che comunque sostiene l'inflazione anche lì poi dati sulla disoccupazione vanno letti ne avevo parlato nel senso bisogna avere cautela perché alcuni analisti un po' più scettici appunto di questa inflazione che doveva scendere eccetera come citavo Peter Schiff ma anche altri che però appunto per ora cominciano ad avere ragione su questi ultimi dati evidenziavano anche così che questa grande forza dell'economia questo mercato del lavoro forte e solido poi va letto insomma vanno un po' capiti questi dati e per esempio l'alta occupazione a volte può nascondere magari più un malessere legato proprio all'inflazione paradossalmente spingendo magari sempre più persone costringendo sempre più persone magari a fare un doppio o un triplo lavoro o magari entrare nel mondo del lavoro persone che non erano attive e questo appunto da un lato è letto positivamente dall'altro però anche in indice tante volte di un disagio sociale del fatto che i soldi non bastano insomma poi penso questo è un aspetto che si vede sempre più anche in Italia come dicevo con stipendi abbastanza rigidi soprattutto e viceversa un mercato diciamo dei costi sempre maggiori e aumenta anche sempre più il divario tra magari chi riesce a scaricare l'aumento dei costi che subisce appunto ottenendo magari stipendi più alti addirittura liberi professionisti di certe categorie ovviamente dipende quali che magari riescono più facilmente ad alzare i prezzi o come dicevo anche un lavoratore dipendente sia un libero professionista un imprenditore sia potere contrattuale rispetto alle controparti viceversa lavoratori dipendenti ma a volte anche come dicevo liberi professionisti e non o anche imprenditori che magari invece hanno più difficoltà a diciamo così poter scaricare l'aumento dei costi che subiscono sulla controparte e quindi non è tanto una questione di categorie del dipendente che magari subisce più l'inflazione del libero professionista in generale sembrerebbe così è più semplice scaricare l'aumento ma poi bisogna vedere appunto se la controparte c'è e è disposta a pagare di più è in grado a volte di pagare di più infatti c'è tutta una playlist che ho fatto sull'inflazione e gli do anche dei consigli da consumatore così delle idee che mi erano venute per risparmiare e cercare di subire meno possibile l'aumento dei prezzi che è stato significativo adesso si parla meno di inflazione ma ovviamente quella che c'è stata rimane non è che c'è una deflazione che la compensa e allo stesso tempo continua soprattutto su certe categorie di beni quindi pesa sempre di più sulle persone e lì dà dei consigli appunto di cercare da consumatori più possibile di sfruttare in senso buono nel termine per esempio il fatto che alcuni supermercati rispetto a certi produttori non di marca riescono a imporre dei prezzi più stabili più bassi rispetto magari al produttore di marca che magari si spende più in pubblicità ma appunto quel brand gli consente di avere un potere contrattuale maggiore per esempio rispetto alla grande distribuzione quindi aumentare più facilmente i prezzi magari alcuni produttori anche di buona qualità ma che magari non hanno un brand noto o addirittura producono per il brand magari del supermercato eccetera ho notato insomma dai vari prodotti che compravo che il divario tra il prodotto di marca e il prodotto non di marca sta aumentando sempre di più o meglio il prodotto non di marca comunque ha avuto un aumento dei prezzi abbastanza ridotto viceversa certi prodotti di marca sono aumentati tantissimo quindi magari da consumatore se ci piace il prodotto non di marca la differenza è poca si può risparmiare molto in percentuale semplicemente scegliendo questo e non perché la qualità sia necessariamente minore ma perché appunto per questo motivo del potere contrattuale magari quei produttori hanno avuto meno possibilità di alzare i prezzi rispetto al produttore con il brand più noto che quindi può dire al supermercato sostanzialmente se non vedi il mio prodotto insomma la gente lo nota subito e immaginate dei grandi prodotti se non fossero disponibili al supermercato uno penserebbe ma che cavolo il supermercato è questo quindi hanno un potere maggiore ecco di fare il prezzo rispetto ad altri però questo non significa necessariamente la qualità è un esempio però per dire come l'inflazione ancora è presente è difficile tornando appunto al dato americano ma poi vedremo anche quello europeo non è molto diverso il mercato dei titoli di stato americani in particolare ieri ha avuto subito un picco in salita dei rendimenti in particolare il decennale americano cioè il treasury con scadenza a dieci anni sono passati da un rendimento di circa il 4,1% 4,15 ha un rendimento di oltre il 4,30% ripeto può sembrare poco ma è percentuale moltissimo e il prezzo addirittura è sceso del meno 1,08% che su un titolo di stato soprattutto quelli americani che sono un mercato proprio a parte di fatto globale non certo come un titolo di stato di un altro paese è una percentuale enorme soprattutto ripeto sui volumi che muovono i treasuries americani e come dicevo però è indicativo di un trend ieri c'è stato così questo apice questo piccolo apice con la notizia ma è un trend che continua già da qualche giorno dove il mercato comincia così sempre un po' più a innervosirsi ieri il mercato azionario anche americano ha avuto un calo non chissà quanto grave ma abbastanza significativo in particolare l'indice Dow Jones ha perso l'1,35% lo Standard & Poor's 500 l'1,37% il Nasdaq l'1,80% e a inizio giornata erano partiti con titoli che crollavano anche di più quindi insomma è abbastanza segno di nervosismo in questo contesto diciamo va un po' contro tendenza bitcoin ne avevo parlato che solitamente beneficia del fatto che i tassi di interesse di solito magari si abbassano c'è l'aspettativa di un abbassamento appunto perché diciamo un asset in un certo senso che appunto beneficia come magari può essere l'oro o altri asset alternativi in un contesto dove i rendimenti si abbassano e quindi c'è la ricerca di asset appunto diversi anche che magari non hanno un rendimento implicito come non ha il bitcoin che non è di per sé fruttifero poi si c'è il sistema di scambi prestiti ma di base non lo è è così l'oro per esempio un pezzo d'oro non è che genera altri pezzi d'oro insomma come Pinocchio che seppelliva le monetine e quindi tante volte è più incentivato l'investitore a comprarlo magari se i rendimenti sono a zero o bassi piuttosto che se magari un titolo di stato che di per sé ha un rendimento magari da un 4-5% senza rischio quindi di solito ecco il mercato che avevo visto azionari o altri scendono invece bitcoin l'altro ieri era giunta di 3-50 mila dollari dopo è un pochino così sceso ma comunque sta salendo abbastanza rapidamente vedremo se così tutte le attese e le aspettative sull'etf bitcoin spot appunto che è stato approvato come avevamo visto qualche settimana fa effettivamente porteranno a questo aumento significativo di prezzo nell'anno 2024 in cui tra l'altro c'è il famoso halving cioè l'algoritmo che genera bitcoin dimezzerà la produzione sostanzialmente quindi ricordo che bitcoin dovrebbe arrivare a circa 21 milioni e ha una curva di produzione che all'inizio era abbastanza veloce poi comincia sempre più diciamo così appiattirsi fino a raggiungere sostanzialmente un punto di non produzione mai totale ma insomma ecco è un algoritmo una formula matematica insomma che comunque fa così il grafico quindi essenzialmente diventa sempre più difficile sempre più costoso sempre più energivoro produrre la stessa quantità di bitcoin via via che passa il tempo e questo anche appunto dà l'idea di valore bitcoin che ovviamente di per sé non vale nulla vale se il mercato lo richiede questo però con un interesse maggiore un utilizzo maggiore e una produzione che a un certo punto come dicevo si fermerà già abbastanza vicino all'apice insomma adesso vi dico esattamente attualmente siamo a 19 milioni 626.537 bitcoin prodotti e appunto ogni quattro anni come dicevo c'è il famoso halving cioè l'algoritmo di mezzo a questa produzione a un certo punto arriveranno ecco ve lo confermo a 21 milioni quindi siamo già quasi a fine a fine corse insomma e appunto per questo chi ha interesse bitcoin chi crede in questa tecnologia comunque rispetto a una banca centrale che produce moneta in teoria potenzialmente infinita moneta fiat ha appunto un asset che invece si fermerà quel valore e via via che dovesse aumentare l'utilizzo ovviamente per questo si dice varrà sempre di più ovviamente diciamo i critici dicono sì ma la moneta fiat appunto ha valore legale per cui io posso pagarci le tasse posso tutti sono obbligati ad accettarla per il pagamento dei debiti insomma c'è c'è un utilizzo legale vero e proprio bitcoin in certi paesi come per esempio El Salvador e comunque altre realtà pensiamo a Lugano in Svizzera eccetera sta comunque avendo anche lì le autorità a volte gli danno valore legale quindi comunque comincia a averlo anche lì ma comunque non è ancora paragonabile alla moneta fiat come appunto legalità nel senso di moneta corso legale vedremo ma ecco comunque interessante anche che comincia un pochino a staccarsi dalla dinamica di mercato e continua a salire nonostante appunto magari questi segnali sui tassi che invece sono diciamo dovrebbero dare un segnale contro tendenza come dicevo però questo trend di così non dare più tanto per scontato all'imminente calo dei tassi oltre al caso degli Stati Uniti ieri con l'inflazione che si è subito ripercosso sui rendimenti di titoli di Stato americani già cominciava a dare segnali sia negli Stati Uniti sia in Europa da qualche giorno a conferma vi vorrei dare gli ultimi dati sulle aste dei titoli di Stato italiani sui quali c'era stato via via un calo sempre abbastanza costante dei rendimenti in corso di Asta quindi i titoli di Stato a qualità di scadenza rendevano sempre di meno segnale appunto che il mercato si attendeva imminentemente quindi anche sui buoni ordinari del tesoro a scadenze ravvicinate un abbassamento dei tassi di interesse imminente invece appunto l'altro giorno l'asta di BOT a 12 mesi buoni ordinari del tesoro titoli di Stato italiani ha visto rialzare nuovamente il rendimento l'ultima asta l'asta precedente il rendimento era al 3,44% nell'ultima asta invece è stato al 3,52% che di nuovo può sembrare poco ma in percentuale da un all'altro un rialzo abbastanza significativo insomma e a confermare il fatto che non è stato così un caso sporadico legato una singola asta anche i rendimenti dei BTP che appunto sono andati in asta credo proprio ieri o comunque insomma un paio di giorni fa hanno visto appunto dei rendimenti progressivamente in aumento insomma ci sono stati adesso il rendimento netto comunque ecco il rendimento lordo del titolo di stato a scadenza scusate che sto guardando al momento ecco 2030 ha avuto un rendimento lordo del 3,53% quello scadenza 2043 4,38% quello scadenza 2027 quindi praticamente tra tre anni il 3,15% quello scadenza un altro 2030 scadenza sempre 3,48% quindi comunque il leggero aumento rispetto alle aste precedenti adesso non ricordo non vedo qui i dati degli ultimi aste precedenti ma se vi interessa ve le metto in descrizione comunque anche i rendimenti dei buoni nel tesoro poliennali sono stati in leggero aumento a conferma appunto di questo trend per cui a un certo punto sembra essersi così un po' fermata la riduzione dell'inflazione e così anche la riduzione dei rendimenti dei titoli di stato quindi si è un po' impantanata così vedremo come evolverà però è indicativo perché ricordo sempre come ho detto già nei video non lo ripeto quanto sta pesando anche sulle casse pubbliche oltre che ovviamente per le società private a livello di credito privato sui mutui per le famiglie per le imprese prestiti in ogni forma eccetera ma soprattutto anche il mercato dei titoli di stato quindi per la spesa pubblica quanto pesa sulle casse pubbliche dover pagare i rendimenti delle cedole sempre più alte quindi in generale i rendimenti sul debito pubblico sempre maggiori si dava anche lì per scontato che sarebbe stato per un breve periodo ma anche se non dovessero magari rialzarsi più di tanto o comunque se magari ecco non è che semplicemente sono a livelli chissà quanto alti cioè se prendiamo un orizzonte temporale storico i tassi interesse sono a livelli medi forse anche medio bassi se ripensiamo a parte gli ultimi anni di tasse a zero agli anni 90 primi anni 2000 anche dove comunque i rendimenti erano anche più alti era la normalità però appunto sempre più analisti cominciano così a preoccuparsi della sostenibilità in termini di spesa pubblica visto l'enorme aumento dei debiti pubblici anche di questi costi sul debito pubblico non tanto per l'Italia di cui si parla sempre ma anche paesi come per esempio Francia Germania gli stessi Stati Uniti hanno visto un forte aumento della massa di debito pubblico e quindi comincia a essere sempre più un problema anche per loro noi italiani siamo già più da tempo ormai abituati a questa massa enorme di debito pubblico che comunque aumenta seppure a ritmo meno sostenuto però non è solo la massa accumulata ma appunto è a capire anche rispetto alle entrate fiscali quanta parte di queste va per pagare gli interessi sul debito pubblico e quindi come viene sottratta poi le altre spese pubbliche ecco quindi anche questo è qualcosa che preoccupa anche soltanto se si potrà e nel tempo questo livello di tasse non si abbassa rapidamente come ci sia aspettava volevo fare un video approfondimento ma a questo punto mi sa che lo divido questo e ne farò uno a breve su su palantir quindi il prossimo sarà su questo analizzando sia la società che è molto molto particolare forse è unica in un certo senso nel suo genere e anche con tutta la pubblicità che ha avuto le persone che ci sono dietro pensavo di fare un approfondimento abbastanza breve ma diciamo per capire anche la storia la filosofia e chi ci sta dietro e soprattutto capire perché la scorsa settimana sono aumentate di circa il 50% le azioni in una settimana e capire appunto cosa fa questa società perché è importante perché così può essere indicativo anche rispetto ad altre società però non vorrei allungare troppo il video come faccio spesso quindi sarà oggetto del prossimo video come sempre vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti